benvenuti ragazzi sul canale pg persone games nuovo episodio del mercoledì dedicata ai motori con forza molto sport ora siamo già qui siamo già sulle prove nel frattempo ho comprato una macchina nuova questa macchina del 2013 po vecchiotta però tutta pulita è usata la targa l'ho tolta ovviamente e quindi iniziamo le prove di questo gran premio siamo se non sbaglio in america ora vediamolo però al senso un preciso questa è una subaru bellissima grafica ragazzi come sempre è fantastica vediamo un attimino se appunto il nostro team facciamo le prove tre giri po la gara eccetera eccetera ancora oggi abbiamo tre giri non abbiamo aglio dio benedetta io dodo perdonatemi non abbiamo ancora il volante lo stiamo settando e quindi prossimamente saremo con il volante per il momento siamo con il pal e appunto cerchiamo di fare il miglior tempo possibile bonus completo un giro in una o meno e abbiamo cominciato un po maluccio è un pochino maluccio questa macchina va molto forte eh questo percorso non l'abbiamo visto quanto è lungo eh ah mamma mia curve si è presa proprio preannuncio che la settimana prossima proveremo l'online eh proveremo l'online non so se lo proveremo con il volante o lo proveremo con il pad comunque proveremo l'online quindi faremo una gara online quindi sarà un video un pochino più lungo perché dovremo trovare personaggi insomma cercheremo appunto un attimino un pochino più lungo 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 più quello che so il passo questo è un bambino con la vita io ok siamo abbiamo completato l'ultimo siamo l'ultimo giro c'è da fare il terzo giro e le prove sono completate e poi appunto vediamo come ci siamo classificati e poi sarà la gara vera e propria eh come sempre ragazzi io vi rimando anche commenti magari per richiedermi qualche indicazione circa ad esempio il mio garage perché nel titolo precedente che ritengo sia comunque un ottimo titolo praticamente potevo andare a vedere il garage ora in questo non ho ancora ben capito ma insomma magari dopo dopo la gara magari vediamo se se c'è la possibilità eh perché io ho una mustang quella famosa che vi ho fatto vedere più questa subaru ovviamente ho potuto comprare quello che potevo comprare tanto qui ho peggiorato vai abbiamo finito i giri i tre le tre giri ora no non è fino a quello qui la fine è questa vai ok sapete faccio punto il video diventa veramente troppo lungo poco la gara e tutto quindi io tre giri di prova e più appunto la gara abbiamo fatto una buona secondo me una buona qualifica o comunque delle prove vediamo dove siamo arrivati vai alla gara però volevo vedere l'elenco dei piloti come siamo arrivati quinti no la quattordicesima ragazzi il problema di questo è quando non fai le gare quindi in dodicesima fila se noi mettiamo qui in sedicesima fila magari ci abbiamo un bonus maggiore e soprattutto perché poi mi voglio organizzare per prendere a casa ma in giappone non america scusate 17 gradi circuito orientale alle ore 19 quindi vai bello tutte belle pulite c'è diverse macchine macchine più o meno dello stesso stile parte bella bellissima con il logo della red bull vai ciccio vediamo come ci si può quale si nell'ultima gara non mi ricordo com'è no quella che vi ho postato ho sempre vinto nell'ultima gara che ho fatto invece con il volante per stertarlo sono arrivato quinto e anche come questo mi sono sono partito un pochino indietro ma ci sono tante macchine e si picchiano quanti giri sono sei vuoi sei giri nooo fuori pista no 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 eh ci danno anche le botte li addorgiamo vabbè ventiduesimi ho fatto pazzi va a rimutere il cavallo zoppo la macchina c'è sta facendo lo scorretto come hanno fatto loro nei miei confronti hanno fatto riparti da zero praticamente bene ok 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 me ok ecco ecco ci ora guarda Grazie. 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 No! Allora, Isabella, vedete che il tempo sta peggiorando e soprattutto sta buiando perché era 19.00. Grazie. Mi ha dato la botta. Via, la ricorriamo nei primi due posti. Grazie. 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 L'ultimo giro, cerchiamo di riuperare ma è troppo lontano. vediamo se nelle curve lui rallenta qui c'è il palo rallentato lui voliamoci verso la vittoria finale abbiamo riuperato veramente 22 posizioni e 22 posizioni per dare riso sempre indietro che li devono fa sempre l'ultimo giro primi siamo riusciti a vincere a vincere questa competizione bellissimo però da la quindicesima ottimo lavoro ok quindi su due chilometri 25 ok del tracci dei primi con 40 punti per noi abbiamo sempre vinto ma sempre vinto vediamo poi premi che ci danno ma che sono un pochino sfatti ora ragazzi questo video vedete sono intorno a 15 20 minuti di video mentre line penso che sarà molto più lungo perché dovrà trovare avversari insomma comunque ok abbiamo vinto l'ennesima gara ora aumenteremo un po la difficoltà probabilmente però sono curioso di vedere livello pilota ok redditi ottenuti accetta tutto quindi migliora questa macchina volevo vedere se c'era la possibilità di vedere garage e poi dopo ci salutiamo ma non si può vedere indietro come vedete si poteva vedere garage negozio media pilota auto eccolo qui acquista auto le mie auto eccolo qui si sono qui ah ma questo mia veste non sapevo e credevo già questa qui avevo vinta questa è la porsche a subaru l'ho comprata questa qui la honda ragazzi e la prossima io uso questa cambia auto ragazzi dal prossimo video saremo gareggeremo sempre subaru sempre a subaru fa vedere seleziona gara un gioco libero design verniciatura che vediamo un po design verniciatura al gruppo crea gruppo vinili i miei gruppi vinili quali sono non ce l'ho file forza horizon 5 basti sincronizzazione come fai caricamento attendere ok il mio design non c'è niente quindi non ce l'ho design i miei i miei forse c'ho qualcosa forza horizon motosport 7 sì perché ci abbiamo giocato l'anno scordi anni precedenti però non c'è nessun tipo comunque crea gruppo vinili vediamo un po che stessa cosa sarebbe nuovo strada applicabile no vabbè comunque sto alla dicevo al caricamento ok questa è la onda non è subaru questa è una onda del 2020 onda world racing civic la onda civic sarebbe bello vederla valore 265 crediti un po visualizza auto vediamola questa la macchina cambia visuale cambia visuale apri ma io ci voglio andare dentro ma ecco ci posso andare così entriamo dentro bellissima andiamo dietro guarda la cosa c'è dentro qui ma qui posso entrare dentro veramente stupefacente e con questa immagine al numero 73 noi ci salutiamo per quanto riguarda il prossimo episodio come sempre mercoledì o mai dedicato a forza morto sport per il momento come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like condividete ecco questo non mi ha detto condividete io cercherò di condividerlo magari sulla pagina facebook del canale sotto trovate tutti i collegamenti a cui fare riferimento pg persone games quindi che dire alla prossima ciao